Day after di Inter Juve come al solito ho ben poco da aggiungere per quanto riguarda la partita di ieri veramente non mi sento di dire altro c'è già il video di ieri, basta così sicuramente ha fatto parlare la lite tra Allegri e Adani ma prima di questo mi soffermo anche un pochettino sulla conferenza stampa di Spalletti che come al solito io ascolto sempre, ascolto sempre quello che dici e ha messo un po' le mani avanti ma io i cambi li sbaglio sempre quando gli chiedono come mai ha sostituito un Angolan sai ogni tanto capita di sbagliare, mi perdonerà, fa il simpaticone io credo che alla fine lo sappia anche lui che spesso spesso non ci legge una mazza non è che con questo voglio dire che Spalletti sia mediocre, che poi si va sempre da un eccesso all'altro no, è che giustamente è un allenatore meno ferrato da questo punto di vista ogni allenatore ha dei pro e dei contro, nessuno è perfetto, nessuno è eccelso, ci mancherebbe e questo è per chiusare sul nostro allenatore per quanto riguarda la lite, Massimiliano Adani io sono deluso, sono deluso da Allegri, sono molto deluso da Allegri perché nonostante sia interista ho avuto sempre belle parole per l'allenatore toscano, sempre, sempre nonostante molti non condividano il suo operato e a priori inneggiano contro di lui io no, io no, perché comunque i risultati come stesso lui ieri poi ha messo alla merce di tutto stessi risultati, parlano chiaro, sei scudetti, questo, quell'altro, ok però uno deve anche sapere accettare le critiche, ragazzi miei deve sapere accettare le critiche e non puoi andare a dire in giro no, ma tu non capisci niente di calcio no, ti fanno una cosa, no, ma tu non capisci niente di calcio ma che stai dicendo, Allegri? ma cosa stai dicendo? poi Adani, Adani non è che è l'ultimo arrivato è comunque un giocatore che ha giocato in Serie A ha giocato nella stessa Inter un anno non è che lo dici a me, ok, Neschio, in effetti io sono qua sono un tifoso e l'ho sempre detto, sono un tifoso, ok non è che capirò le dinamiche del rettangolo e del gioco alla perfezione assolutamente, posso sono cresciuto a pane e calcio però giustamente le cose proprio tecniche non le posso mai apprendere quelle le apprendi con la pratica che le apprendi stando lì, vivendo calcio proprio lì a contatto diretto però ad Adani direi che non capisci niente e c'è l'intervista no, ma non capisci fate teori, teori, tu non capisci dei palloni ma che stai dicendo, Allegri? ma cosa stai dicendo? cioè, quello è comunque uno che ha giocato in Serie A che ha giocato a calcio ma stiamo scherzando? no, non... ma anche fosse vero ma anche fosse vero non ti devi comportare così non ti devi comportare così quando ci sono dei tifosi devi dare l'esempio devi rappresenti la tua società, la tua squadra in quel momento e penso che l'abbia rappresentato in un modo veramente indecoroso e no, e no cioè, a noi piovono accuse da tutti i lati da tutti i lati questi quanto poco poco cioè questi, questo quanto poco poco lo accusano di qualcosa e subito si sente punzecchiato poi dice ha detto cose che secondo me sono anche inesatte no? volete il gioco il gioco il gioco spettacolare basta mettere i terzini basta mettere le ali ai terzini fare queste cose strambe quando in verità non ha detto nulla di ciò a Dani e già ricordo all'epoca la lite dello screzio perché questi sono cioè c'è tra loro due c'è già un astio secondo me è molto acceso già ricordo lo screzio ai tempi sempre contro non ricordo quale post fosse sempre forse contro l'Inter forse sempre dopo la partita dell'Inter non ricordo comunque diceva ha fatto l'esempio del basket che ci vogliono i giocatori forti se non hai quelli fai poco e cosa giustamente a Dani gli diceva guarda che nel basket pure che sei giocatore forte comunque devi avere delle idee di gioco ed è vero cioè le idee di gioco sono importantissime nel calcio assolutamente assolutamente come stesso a Dani ha rimarcato nonostante hai il numero uno in squadra e Ronaldo ragazzi miei può essere il numero uno può essere il numero due a seconda di chi privilegia Messi ma comunque è tra i due e tre più forti tra i due e tre più forti al mondo ma non esiste perché poi ci può essere Mbappé ma è tra i più forti al mondo in assoluto perché ieri due palloni ha toccato te l'ha messa dentro e e quindi nonostante questo vedi tu comunque non ottieni risultati in campi europei ed è vero cioè ragazzi poi parliamoci chiaro io ho sempre difesso i risultati di Allegra però ok è vero che in Italia stradome ma in Italia ragazzi miei il livello l'abbiamo visto il livello è imbarazzante cioè oltre alla Juve non ci sono squadre che si che possono essere degne di note che possono essere chiamate squadre di calcio di vertice cioè in Italia c'è solo una squadra di vertice le altre sono squadre da metà classifica ragazzi questa è la verità purtroppo è vero purtroppo cioè andiamo in campi europei le prendiamo da tutti i lati Juventus a parte e quest'anno anche le Juventus Juventus a parte le prendiamo da tutti i lati cioè il Napoli che comunque non passa il girone o passa comunque arriva l'Arsenal e te lo sbatte fuori l'Inter idem cioè non è che noi sono interista no l'Inter idem la Roma abbiamo visto che fino abbia fatto cioè questa è la realtà dei fatti e poi quando si è andato a confrontare con le squadre europee sì è vero è arrivato due volte in finale è ok quelle sono cose che comunque restano per carità di Dio però l'allenatore poi nella storia la scrivi solo quando vinci appunto in Italia vincono da otto anni e hanno scritto la storia del calcio del campionato italiano e l'hanno scritta non si può dire di no ma in campo europeo sì hai fatto due finale ma le hai perse capo europeo allegri non verrà ricordato se non alza la coppa assolutamente no anzi anzi si afferma che il suo gioco non paghi non paghi a livello europeo se sono questi risultati a livello europeo perché comunque quest'anno aveva una squadra fortissima aveva una squadra fortissima e le scuse degli infortuni questo quell'altro possono reggere ma quanto possono reggere la Juventus ha tre rose tra cui due rose titolarissime e una di riserva quindi ragazzi miei non lo so non lo so e vabbè ma al di là di questo dei risultati quello che ho trovato scorretto è veramente il fatto che si sia si sia comportato in modo scorretto e sgarbato scorretto perché appunto vai a dire ad uno non capisci niente di calcio così cosa ma stiamo scherzando e poi sgarbato perché se n'è andato cioè ha fatto la figura anche di quello sconfitto perché ha preso e se n'è andato e allora non sei nemmeno confrontarti non sei confrontarti e ripeto io che sono stato sempre dalla parte di Allegri sempre questa volta mi sento mi sento deluso mi sento molto molto deluso vabbè questa è la mia opinione fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate likeate iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio un grande abbraccio un grande abbraccio un grande abbraccio